Ma è questa la difficoltà, è questa la bravura, il manico dell'apicoltore. Dobbiamo essere in grado di leggere la stagione quando la si vive, non dopo. Dopo è tardi, dopo è già andato, è già finito. Dopo si cerca di recuperare, si cerca di sistemare quello che abbiamo causato fondamentalmente.